Perché ormai si apre una settimana importante, oggi il presidente Mattarella ha salutato le alte cariche dello Stato, come la giudica fino a questo momento questa corsa? Mi dia un aggettivo. La giudico che non è entrata ancora nel vivo. Cioè siamo alle fasi preliminari. Siamo ancora alle fasi preliminari, approviamo la legge di bilancio e poi iniziamo a discutere nel modo trasparente, con fido e molto partecipato. Però a lei dice, entreremo nel merito di qui a poco ormai, a pochissimo. Il centrodestra, tutti dicono, mai come adesso, hanno i numeri e quindi peraltro hanno anche un candidato. Questo candidato si chiama, il nome comincia con la S? Si chiama Silvio B. Si chiama Silvio Berlusconi. E a proposito di Silvio Berlusconi, c'è posta per lei. Marco Trovaglio. Arriva, eh. Come inizio Conte con i 5 Stelle, perché poi essere il leader di un movimento come il Movimento 5 Stelle, facilissimo non è ed è cosa assai diversa dall'essere Premier, no? Assolutamente diversa. Infatti Conte deve imparare a cambiare linguaggio. Quel linguaggio ecumenico da gentleman, come ha detto Beppe Grillo, che non sa fare ultimatum ma solo penultimatum, va benissimo quando sei un uomo delle istituzioni che deve rispettare tutti, alleati ma anche oppositori. Quando diventi un capopartito, devi almeno riuscire a dire che Berlusconi non può fare il Presidente della Repubblica perché è un pregiudicato, perché stava nella P2, perché ha finanziato la mafia e perché ha frodato il fisco dello Stato che vorrebbe ora presiedere. Se non ci riesci, devi fare dei training con qualcuno che ti aiuta. Devi fare dei training. Doveva essere più dritto rispetto al giudizio su Berlusconi, dice Marco Travaglio. Guardi... No, sa cosa c'è, che insomma Marco Travaglio è osservatore attento, non risparmia le critiche, ma insomma nei suoi confronti, come dire, è sempre stato attento in positivo. Guardi, io sono stato non dritto, drittissimo. Non credo di poter aver creato equivoci sul punto, perché dal primo giorno, senza mai cambiare idea, ho detto che il candidato che in questo momento sembrerebbe, poi vedremo perché può essere pure che non verrà formalizzata questa candidatura di cui tanto si parla, se fosse il leader di Forza Italia, il Presidente Berlusconi, non avrà i voti del Movimento, non sarà il candidato del Movimento o non avrà i voti del Movimento. Più chiaro di così, dove è l'equivoco? Lui dice che non dovrebbe dire sì, ha fatto anche cose buone, ma non è adatto, dovrebbe dire, è una persona che moralmente non merita quel posto. Guardi, io ho detto per quanto riguarda il candidato, a parte che voglio dire poi ognuno ha le sue opinioni, fa bene Marco Travaglio esporre le sue, però anche io potrò esporre le mie. Io ho detto che il candidato ideale del Movimento 5 Stelle è una personalità di grande rilievo morale, è su questa che vogliamo convergere. Anche questo l'ho detto dall'inizio fino ad oggi, dov'è l'equivoco? Quindi non è Berlusconi. Mi sembra evidente. Ok. Oggi Repubblica racconta di un incontro tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti. Il centro del colloquio ha detto che la Meloni, ma noi abbiamo parlato della regione Lombardia. E invece, diciamo, si ipotizza che la Moratti potrebbe essere un nome. Prima Gomez diceva, è un nome che secondo me al PD può pure andar bene. E io gli dicevo, e secondo te Conte che mi dirà che va bene per i 5 Stelle? Che mi dice Conte? No, guardi, su singoli nomi adesso non ha senso proprio stare lì a consumarsi. Di qui a quando entreremo poi nel vivo di questa che lei ha chiamato il giallo, la corsa, le Quirinarie. Perché non avrebbe senso su ogni singolo profilo. Ogni giorno, tanto voi giornalisti ne tirerete fuori qualcuno. Però non è un no, diciamo, a prescindere. Ma in questo momento non ha senso entrare nei singoli nomi, profilo per profilo, ed esprimere delle personali valutazioni. Peraltro, guardi, è anche una questione di metodo e di rispetto anche ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Per esempio, lei di Berlusconi mi dice, però non è Berlusconi fuori... Beh, diciamo che... Non se ne parla rispetto alla Moratti. Beh, l'ho detto, è un candidato di bandiera, insomma, è leader di Forza Italia. A quel punto lì, allo stesso modo, potremmo proporre il leader di una delle altre forze che sono nell'altro campo del centro-sinistra. Non credo che il centro-destra accetterebbe mai. Quindi è ovvio, al di là di tutte le altre ragioni che poi uno può tirare fuori. Di tutte le valutazioni. Di tutte le altre valutazioni. Diciamo che ci fermiamo in via preliminare senza andare oltre. Senti, è tornato di...